Una saccatura sulla penisola iberica attiva un flusso decisamente mite e umido dai quadranti meridionali, con tempo instabile e limitato al nord-ovest della penisola, fino all'ambire la Toscana. In Toscana martedì 22 ottobre cielo sereno poco nuvoloso per nubi alti e sottili, addensamente in serata sull'Appennino. Venti deboli in prevalenza meridionali, mari mossi in attenuazione e poco mossi. Temperature minime in locale flessione, massime in lieve aumento, valori decisamente sopra la media. Cielo da velato a sereno su tutto il territorio provinciale. A Lucca e sulla piana temperatura minima 15, massima 28 gradi. A Castelnuovo e zone montane minima 10, massima 27. A Via Reggio e sul litorale minima 15, massima 26 gradi. Grazie a tutti.